Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, una giornata di venerdì che vedrà l'anticiclone d'Ovest nuovamente ritornare al centro nord Italia. Una maggiore stabilità anche se al sud guardate questa zona di bassa pressione in quota. Il allontanamento verso la Grecia innescherà ancora nel pomeriggio dei focolai temporaleschi su alcune zone del centro sud. Andiamo a vedere la prossima grafica, ci fa vedere appunto la nuvolosità, un avvio di giornata buono, bello sulla nostra penisola con cieli sereni o poco nuvolosi. Ma già nel corso del primo pomeriggio si innescheranno focolai temporaleschi sulla dorsale appenninica, il locale estensiona ad alcuni tratti costieri specie del Basso Lazio. Andiamo a vedere anche la prossima immagine in sintesi dell'Italia, buono su molti settori del centro nord, poi temporali su dorsale appenninica entro il pomeriggio. In avvicinamento a Basso Lazio, poi anche tutto il Basso Tirreno, parte ionica ma qualche focoleio temporalesco lo vedranno anche le zone interne di Sardegna e Sicilia. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.